Ringrazio l'assessore Berrino, quindi attendiamo con ansia che sia convocato questo tavolo dove parteciperà anche la città metropolitana che dovrà quindi rendere conto di questi tagli, di questi accorpamenti in cui non ha nemmeno voluto coinvolgere la regione che sussume adesso gli oneri e le responsabilità per quanto riguarda i centri per l'impiego. Confidiamo quindi dopo questa risposta che anche la giunta ritiene doveroso, opportuno invece mantenere in vita questi servizi dei centri per l'impiego e attendiamo anche oltre appunto il materiale tecnico di cui ci ha parlato adesso l'assessore che venga resa nota anche la data di questo incontro, di questo tavolo con la città metropolitana. Grazie.